Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo Spava Late Motor Show La spira di oggi è Litterio Tantissimi di voi mi hanno chiesto di portarlo in un late E quindi eccoci qua Sono sicuro che sarà un episodio differente Perché avremo la possibilità Oltre di scherzare, cazzeggiare, magari guardare qualche clip divertente Ma anche di chiacchierare, di parlare Perché, insomma, Litterio ha vissuto un sacco di esperienze Anche in ambito auto Non perdiamo altro tempo E partiamo Andando pianissimo Lo sa però Vabbè, qui che cacchio fai? Qui non può fare niente In realtà non so perché è andato a finire sulla terra Perché è rimasto rigido in moto Piegava un piletto di più Non sarebbe caduto Probabilmente però questa è una cosa che succede quando c'hai È la paura che te blocca Non ce la faccio, non ce la faccio E non ce la fai Non ce la fai proprio Non devi mai scoraggiarsi Certo Dici, sto a morire Non me te scoraggiare Non te scoraggiare Avendo difficile però No ma non muori Avendo difficile però No, c'è ragione Andando piano Andava a una velocità bassissima Insomma Ha fatto solo 4 capriole Quindi non era altissima velocità Mi ha messo un po' paura Trovate gente che è appena salita in moto Che fanno? Tremano Tremano perché? Perché stanno contratti Stanno duri Quindi tu vedi Se persone fanno tipo Stanno così In realtà Devi stare super rilassato Però capisco che in conto è dirlo E poi in conto è farlo Questo sono io A modo da enduro Oh 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 Madonna che è salvata Vedi i specchietti chiusi Servono Se erano aperti Vedi perché? Ha stato tornato a dire Chiedi gli scusa No siccome non l'ha preso Mentre andava Ma schiacciamo Mentre torna Ha fatto il graffietto Il cipone del 81 Guarda è rimorto Ovviamente vedo un po' di polvere Sull'angolino della macchina C'è se sta portare sfigata solo C'è scritto fly sur guanto Vola Dice che sta tirando da solo Si si è fatta e fatta È andata Boh Procca miseria È riuscito Pensa Ha sbattuto che la frizione Si è incassata il gas Cioè è fantastico Come è be careful Be careful a lei Cioè tu mi hai preso lo sfigato Il specchietto Be careful Che porca miseria La gente è strada Be careful Oh oh Niente in autostrada La gente si perde di tutto Scale Lo sportello Che se è perciò Non lo so Una buchetta Ti racconto una volta in Turchia Che mi è successo C'è altro che una buchetta Turchia a motocicletta Andato con una California Con una Guzzi California Passiamo dalla Grecia A un certo punto Ci passano i fantastici 4 Con il GS 1200 No? Ma a un certo punto Stavamo andati Paccenta allora Che camminavo Ogni tanto mancava Qualche coperchio del tombino Si rubavano i coperchi di tombini Così tu cammini Manca un coperchio Vabbè c'è il coperchio Che manca Ci passano questi 4 Con i GS Saranno andati tipo No è 100 O è 180 Vedo un porverone Uno con i GS Di questi che era passato Accentrato una vacca Che ha attraversato la strada Tipo una piotta e mezza Non meno dei 150 all'ora Perché te ne scontri contro un muro? Si esatto 150 a 0 Proprio Questo per te Era rimasto per te Era così Era vivo La vacca che faceva così Il GS Si era praticamente smontato Ti avevano dato in scatola De montaggio Dopo ti porto a casa Col furgone Esce il padrone Arriva il padrone Da la vacca Qua a scimitarra Tutto muo Gli taglia la capo Ci ha ammazzato Invece no Ha ammazzato la vacca E quello si è alzato Poi piano piano Gli ha dato i soldi Per la vacca Ha dei pagati Giustamente Porca miseria Mamma li turchi E quindi giustamente Gli ha pagato la vacca E tornato a casa a piedi A morale Ha occhio alle vacche Occhio alla vacca E Kerdogan Quando dice che i turchi Sono pericolosi C'ha ragione C'ha ragione C'ha ragione Gli ha dato Quanto costa una vacca Ah beh non lo so Io non mi sono fermato A vedere tutta la trattativa Perché poi ho detto Ora poi mi chiede Qualche sordo Pure a me Vabbè Dice Senti Ma tu Ma hai preso la vacca Questi per segnalare La buca Hanno messo il cono Esatto Ma tutto dentro la buca Ma no Lì l'hanno messo vicino Solo che qualche fenomeno Ha spiacicato dentro Ha affilato dentro Ha affilato Sì sì Sicuro Questi a Roma e Napoli Mi sono buchette Che sento che parlavo Ole Segnalato Beh certo Ma è un'altra cosa E lui perché è ambientalista Se vede Era un po' contro il pirillo Ha detto Fammi ci mettere una pianta Guarda questo Porco zio Non ho visto Oh Ma come fai a non vederlo Ma come fai a non vederlo Lui non l'ha visto Ma quello l'ha visto piano Cioè ha visto bene Per piallo Cioè è proprio Giusto voglio dire Tu sei stato in America no? Sì Adesso tanto se incazzano Quando fanno Landing splitting Quando passano da C'è solamente piano De compilation Soltanto de macchine Se passano E sti motocilisti Se incazzano Beh beh si slimitano A cannone Non l'ho fatta la Francia? No Non l'ho mai fatta Si fa la fila al casello Cioè se ci stanno 1782 macchine Prima di te Non è che se supera Certo E quelli che si E non ho Provato sulla mia pelle Hai provato Hai provato a passare Ma certo Perché io sono arrivato E ho detto Ma che me frega La fila Che ha mai fatto la fila Che ha la fila La fila fa parte dell'ambiente No E' la natura E' la natura Saranno scegli 7-8 o mai Che si sono cazzati Come animali Torno indietro So fermo Andate avanti voi Con molta serenità Io se li sono messo qui Tranquilli E poi mi sono imparato Un giorno vi racconterò Un po' di cose Delle tante cose Che ho fatto Una mattina mi sono alzato E ho detto Voglio andare con l'SH Sul Montamiata Ho fatto Un giorno 300 andate 386 600 chilometri Con l'SH 50 Vabbè diciamo che Ogni tanto gli prendono Ste cose Perché Cava Vespa Ha fatto quale Dove è andato Cava Vespa Nel 2011 Sono andato a vedere La 24 ore di Le Mans Con LML 125 4 tempi 4 marce Sella in Frassino Ora mi fa male il sedere Cioè tu ve svegliate Una mattina no E dite vabbè O sai che c'è Vado a vedere Le Mans Come? Cava Vespa Sì 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 Aspetta Quella a marce Ho detto Cosa che faccio Ma sai Era un po' indeciso Volevo fare un viaggio Molto Volevo da sfogo La mia fantasia In realtà come dico sempre Allora C'hai la fantasia Non c'è nessun limite E sto partito Ho fatto questo viaggio Ho fatto 5 giorni 4000 chilometri quasi Aspetta ce l'ho ancora Perché quella Io partivo già scoraggiato Io partivo già scoraggiato Cioè non lo dicevo No vabbè Non ci arrivo Non ci arrivo Ho fatto 1130 chilometri In un giorno Al ritorno Eh certo La V-Power Mò il telefono Mi funziona meglio Boh Se l'è cuccata proprio tutta È la prima versione Di telefono Ibrido Ibrido Mi dà benzina Mi dà batteria Chiaro Oh Vabbè Gli ha chiesto scusa Sì sì No vabbè Se chiede scusa Sempre lui no È sempre lui È sempre lui È sempre lui Va insultando persone A destra È sempre lui È sempre lui Uh Uh Vabbè Io capisco che quelli Stanno a passare col rosso Sicuramente c'ha ragione Ma non gli ha po- Cioè lì ci rischi De piallo Cioè sei pazzo se io Sempre lui Ma io E se cazza poco questo No tu no Uh Ti attacca a briga Questo C'è un prepotente Questo ha fatto il primo Degli underclax Nel 100 chilometri A moto Ho fatto mille Degli underclax Oh L'iterio Moccazza eh Boo Ah 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 è la moto così in mezzo l'acqua è da buttare no beh è il modello nuovo perché stava idrogeno invece più che tanto non la trova più ormai ha seminato la moto ma io dico ma che te viene in te che te viene in testa eccolo guarda che c'è in testa è un po' indeciso fra ho bevuto e tocco ha bevuto ha bevuto ha bevuto il fango e vabbè però si vabbè lì si incazzano così è la stessa cosa che tocca ricordarsene perché quando andremo da lì io faccio destra e sinistra ma restano è sceso con l'ascia infatti c'è il proverbio che dice vivi e lascia vivere con l'ascia parco due ok accetta che non sono mai scesi nemmeno a me insomma io sono antipatico una volta per il martello sono scesi con il martello con il martello la mazzetta c'era via una ragazza è scesa con la mazzetta una ragazza una ragazza si si non l'ho fatto manco niente di male non mi ricordo in che zona stavo questa si è incazzata come un animale io stavo in macchina non stavo in moto io poi ho macchinato proprio piano perché io sto sempre a pensare cose miele la macchina va piano in città si la macchina c'è a se marce ne usi solo tre a 180 da terza per me è piano ecco mi si era messa paura che la marmitta aperta si smaggla pensava io si è arrabbiata con il martello è sceso io praticamente guarda non devo mettere i odi e cosa si è messa e che devo fare sembra una martellata addosso sulla macchina avevo già milioni di danni vabbè ha buttato sulla simpatia non devo mettere i odi la cedialità non devo mettere i odi ebbè quella si è messa rita e quella si è messa rita si si questo è stand man stand man anche i guardi si a belè i saluta ciao che sei sulla nota io non mi scherzi poi sei appennata non sapevo più nemmeno con una moto che se vede lontano un miglio che è fatta per appennare questo è Roberto quello che venne la roba in televisione è lui è lui ma questo premio giugas casella dell'anno sta fatta la magia te faccio un gioco l'MT10 dove l'MT01 sotto sopra l'MT10 cavalletto sempre detto che hai sbagliato a sport ah ma stavampennata ecco perché l'ha suppostato ragazzi miei a proposito del ring visto che siamo in uno spettacolo dove si parla di moto il ring è l'unica pista al mondo in cui la macchina va più forte della motocicletta il giro più veloce del ring della moto è 25 secondi 20 secondi più lento della macchina macchine stradali macchine stradali non parliamo di macchine sport non è che la formula 1 al Mugello grazie la formula 1 al Mugello c'era 35 30-35 secondi più forte fanno a casa nuova Savelli a moto GP tipo a 160 all'ora la formula 1 a 280 così ti rendi conto un filino di differenza Porsche GT3 RS che è già una macchina track oriented e una BMW S1000R la BMW va più piano perché ci stanno tanti curvoni veloci tanti pezzi veloci perché non ci stanno tante frenate forti e non ci stanno tante ripartenze e quindi la musicetta che è più leggera è più agile e lì è vittoriosa nei ripartenze capito accelera prima adesso destra poi c'hai una S leggerissima e poi fa il carosello il carosello è la curva più famosa del ring che è fatta sull'astroni di AS ma arriva questi sono i lastroni originali del 1930 da quando è stata fatta la pista quindi c'è la parte qui che è asfaltata chi fa il giro veloce non fa questa fa quest'altra qui c'è il grip qua c'è il grip la questione di immagine ce la fanno per figheria io ho avuto un R8 Plus per tre anni ci sono andato a girare con quella e devo dire che non mi sono divertito per niente no? no una macchina troppo impegnativa troppo grossa troppo pesante troppo potente tutto troppo serve macchina una macchina da 350 cavalli il motore è sempre un male i cavalli sono sempre un male quando una gira a pista insomma è bene perché la percorrenza come nella motociletta la percorrenza in automobile è la cosa che ti dovrebbe far far tempo più la macchina acelera forte più la macchina frena forte meno fai la percorrenza cioè sei portato a sfruttare l'accelerazione e invece in macchina la forza è il fatto che c'è grip e quattro ruote quindi c'è il doppio del grip della motociletta infatti le frenate sono diverse la macchina ha rifrenato fino a centro curva a un certo punto lasci per un momento e poi riparti invece la macchina si frena con le gomme dritte le curve si fanno in accelerazione si fanno certo è il contrario per noi che veniamo dalla motociletta dalla moto passando la macchina un tempo buono viene facile il problema è che rimaniamo imbassarditi dal fatto e poi rimanere frenati in curva fino all'ultimo cioè noi andiamo frenati alla corda e poi da lì lasciamo e poi parti ma il problema è che la macchina lì hai perso tutto io lo fa bene frena con le ruote dritte e il centro curva lo fa con il gas giù quindi già quello sta in accelerazione completamente differente completamente diverso sì sì un'altra cosa certo che questo qua con l'S1000RR ha risaperto cioè pennaforte camoto la risapete sì sì questa la risapete tutta ma adesso fai qua salita fai sinistra destra fai un pezzetto da lungo rifai un'altra volta destra e qui ci ho visto un botto con una McLaren si è perso una ruota ma fa così destra e poi subito fa l'S qua ha scollinato e prenda sbattuto qui si è perso la ruota e arriva la finola giù in fondo cioè è una cosa qui quando i botti li fanno li fanno forte cioè mi considera mi trasferisco una settimana al ring tutte le stati ho fatto sei estati su dieci anni tutto così torna a ring non c'è niente è piena foresta nera esistono solo i posti dove andano a dormire la gente che va a Nürburgring e basta e i noleggi i noleggi le macchine racing sì sì che è conveniente noleggi la macchina quasi non è conveniente annacce la macchina tua conviene annacce solo che lì quello che mi spaventerebbe tanto so ah questa è dove si mette ah no non è qua sì qui si stanno i fotografi qua è qua che vedo sempre i video sì è sempre qua che vedo sempre i video della gente che qua se gira ammazza quanto sale e scende sì ci stanno 66 metri di dislivello tra la più bassa e la più alta poi metto la foto in sovraimpressione dell'interio che stacca tutte e quattro ruote tutte e quattro ruote ho trovato sta foto su un gruppo che parlava del Nürburgring australiano è stata una bella soddisfazione insomma pure che sono riuscito a falsare anche l'R8 l'R8 era difficile questo dosso si dovrebbe come diciamo prima frenare prima per poi far dosso e io invece ho frenato subito dopo quindi consiglio che l'R8 in San Chiavone fa 1800 kg per far la saltà e fai alzare le ruote dietro era difficile non è una cosa facile pur il Golf è stato più facile ecco adesso capisco perché il fotografo famoso YouTube tutti i video che vedete su del Nürburgring sono praticamente suoi qua si vede che perdono tutti trazione posteriore ecco perché perché è in discesa si no qua loro vengono che stanno in salita praticamente escono sale e scende sale leggermente ecco ma qui scollirono perché vanno da sta parte qua non c'è grip c'è praticamente c'è il cordolo e sono tutti sono tutti infregnati passano il termine sempre andando col gas giù si ma il problema è che gas giù non è sempre la cosa giusta e poi stanno tutti essendo guidatori dalla domenica ancora hanno capito che il gas giù è dritto gas giù fai finta che fra il pedale del gas nel volante ci deve stare una cordicella tanto sta giù tanto deve stare dritto certo cioè quando tu cominci a girare lo sterzo devi dire assurdo il gas chiaro 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 io te la faccio figurata te la faccio una cosa e questi invece rimangono col gas giù se la metti l'anteriore cominci a allargare smusa se stai girato col gas così e la macchina non è una macchina modernissima non è una macchina che ha tanti controlli elettronici a quel punto te la metti per il cappello nel sinistra a destra vedi sempre il suo dislivello saliscendi fanno il suo snake vai subito vai così a destra e discesona c'è una S veloce se fa 200 questa questa macchina se fa 200 fai il curvone ecco lo snake qua tutto insieme macchina dritto e qui c'è il dosso quello che tu vedi qua se salta con uno che va forte salta con due ruote se vai forte forte salta con quattro ruote si si è inna forte l'anno scorso ho girato in 52 credo 52 7 e 52 sono sotto gli 8 sono nel club dei 7 minuti col golf col golf col golf l'anno prima ci sono andato con una cupra r e alla lauda dove lauda ha preso fuoco sono rimasto a 190 ho frenato forte senza freni senza freni sono riscaldati la macchina ha funzionato ho ripompato due o tre volte sono quasi vivo per miraggio se prima c'avevo anche soltanto una minima idea vado con l'iteria arnurbunimo cazzo che c'è no no c'è viene arnurbunimo è divertente è un'esperienza bisogna fare la ring anche andando piano perché bisogna capire il mondo puoi andare piano puoi andare piano tu vai piano se guidi tu no guidi tu ma che guido io ma dove vado ma te faccio guida io il cardrail così tocca ripagare tutti il cardrail costa poco costa 6.000 euro tipo 1.000 euro al metro più o meno 1.000 euro al metro è poco un cazzo sono tanti mica è poco costa tanto se sto più in giro una battuta appunto no perché siccome so che vanno pagati se li sbatti si 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 se sbatti lì si paga tutto cioè ma se io sbatto qua se fanno pagate 1.000 euro si perché la macchina non è stata assicurata perché mia pagate di pagare l'assicurazione l'assicurazione mi dà allora l'assicurazione paga certo quando esci ti dicono ah amico chi sei di Lorenzo apposso caro Lorenzo mo te spiego è così l'assicurazione mia non si incazza no perché si incazza farà pagare bonus malus aumentato questa è come una strada è come se sei a prendere il cornicione del palazzo se hai preso un palazzo dovrai pagarlo il cancello di casa è la stessa cosa ho capito ma questo è un cartone da 6.000 euro no ma tu sei a 6.000 euro ma se sei in macchina e sbatti al primo chilometro devi fare 21 chilometri di carattrezzi spendi 3.000 euro pure di carattrezzi che uno si scorda capito certo se la macchina cammina più la macchina cammina eh sì hanno 2.000 euro più o meno per portare 600 euro ogni quarto perché ti sono quarti se sbatti all'ultimo quarto ti costa 600 se ti sbatti al primo sono 2.400 poi te l'hanno sconto però mi sei mai fermata la macchina mentre giravi no 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 non mi sei mai fermata ragazzi lì c'è gente che fa sto lavoro per vivere per vivere quindi le macchine sono bellissime sono tutte iper tenute benissimo e non costano nemmeno un capitale vi faccio un esempio la swift che è una macchina performantissima dai quella nuova che c'è il motore che ha la ghioccioletta magica di quella che ha la turbina ci stanno sia quelle aspirate che quelle non se pì quella con la ghioccioletta l'ultimo modello quella costa con la casca completa full casca 280 euro 4 giri costa poco ma mazza 280 euro 4 giri non è ma cioè calcolando ogni giro so è poco si perché poi va lì o che ne so te fanno 3,20 con 4 giri te pagano pure il bietto per entrare tu oggi vai lì paghi la macchina paghi 4 giri api col pieno ma riporti col pieno il giro costa 28 euro quindi magari con 3,20 fai 4 giri e 4 giri devi sta pagati ok ho capito è conveniente capito certo c'è un po' d'economia non è una cosa facile affitto in GT3 costa 1300 euro 4 giri vabbè è chiaro lì poi sta il portafoglio poi lì c'è il taxi ring dove c'era Sabina Smith che lo portava tante volte la ragazza che è famosa per ring che è morta quest'anno del brutto male la pilota che ha fatto ovviamente conosce il ring ancora di più al mondo che ha fatto una sfida con Ford Transit Top Gear la sfida era che ha girato in meno di 10 minuti con Ford Transit lei ha vinto un sacco di gare da 24 ore del ring però ha avuto oltre 5.000 giri sulle spalle del ring 5.000-6.000 giri porco duro ci ha addormito abitato e campato e fidate che in giro a 10 minuti con il furgone è tanta roba tanta tanta roba allora è fidate andiamo con la 5 guido io ma chi te se beve a Simone ma che è qua è famoso per fanno tutti i dritti qua qua c'è apparente vengono da una salita se fanno il salitone escono la tasta S e tutti siccome guardano quello davanti guardano quello dove devono andare poi all'ultimo chiude è in 120 gradi torna indietro ti tiene tanto in difficoltà pure avvocato mio a cui ci sono andati 3 anni fa insieme pure lui con l'M3 questo sa cuore un po' troppo ma tu stai a vedere questo qua come cammina sull'erba abituato ma come abituato ma sei pazzo io sono convinto che Lorenzo ce lo riuscirò a portare perché è divertente se gli faccio vivere un'esperienza dove lo faccio guidare secondo me si divertirà tanto divertimento niente rischio stai sereno quando vado a girare mamma ma lo senti ma lo sente padre filate mamma se lo riporto sano stai sereno segui sempre le live sicuramente io lo sapevo che stavi qua guarda bene ragazzi grazie mille per aver visto questo Spaule Late Motor Show io ringrazio Litterio ciao a tutti per questa sera mi ricordo di lasciare un bel mi piace iscrivervi al canale e attivare anche la campanella così almeno quando pubblico un nuovo video vi arriva la notifica ci vediamo come sempre al prossimo video ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti